Il tragedio è avvenuto sabato scorso sulla 14 che ha portato alla morte di Andrea Silvestrone e di Nicole e Brando a seguito di un frontale violentissimo nella Galleria Castello a Grottamare. Oggi ci sarà l'apertura della Camera Ardente dalle 15 alle 19.30 a Monte Silvano nella dimora del Silenzio in via D'Antona. Domani alle 11 i funerali saranno celebrati da Don Cristiano Marcucci nella parrocchia della Visitazione di Maria in via Caravaggio a Pescara che è stata scelta per le sue dimensioni in vista delle centinaia di persone che vorranno stringersi attorno al dolore immenso della famiglia. Era atteso per oggi infatti il nulla ossa del magistrato per il ritorno a casa di papà Andrea e dei suoi figli Nicole e Brando di appena 14 e 8 anni deceduti nel frontale che ha lasciato in vita solo Diego, l'altro figlio di Andrea Silvestrone ricoverato ad Ancona. Il 12enne è stato sottoposto a un delicato e complesso intervento chirurgico ed è ancora in prognosi riservata. Andrea Silvestrone e i figli Nicole e Brando sono morti sabato scorso nell'incidente appunto avvenuto sulla 14. Un frontale violentissimo e la mortasi sul colpo per Andrea Silvestrone, avvocato 49enne, noto atleta e campione paralimpico di tennis e di due dei suoi tre figli Nicole di 14 anni e il piccolo Brando di 8.